ma che cazzo fatto male no borto eh figlio l'ho persa in giro è brutale che errori non riesco a sbloccare non riesco a sbloccare non ho più il buio non ho più il buio affottia gli ho bisogno di un boost è un copo di te no pigliate la persona no giro scusa un passo più avanti un passo più avanti tutti i cotto di loro bravo non è pazzesco food ahhh di yokai non è pazzesco no fallo la fanno esplodere così si non ne aveva neanche voluto cazzo vero oh no nooo fa mancare di così tanto una palla figa questo è la parcheggio tele e le faccio e lo gibe che cazzo bravo bravo occhio nooo ma non è uscito ah ma non è uscito scocchiatemi cazzo ma non è uscito ma non è uscito ma non è uscito e dall'alto è uscito più forte eh io penno mi sereno ieri avete fatto pure esplodere il mio amico ehm serataccia com'è che erai ieri share condividi youtube giusto? perché? eh ma si arriva al set no? eh no vabbè adesso si entra uno serata eh però giusto per favore dico cioè dovrebbe arrivare al set per vincere noi abbiamo dato ampia possibilità qua loro su 2 a 1 vogliono andare a vedere subito via via non ha mai mangiato così presto 3 a 1 non ha mai mangiato così presto 3 a 1 ah non devo uscire 3 a 1 ragazzi non è uscito non è uscito non è uscito mai più che esce il martedì